Colleghi, come sapete lo scorso 7 gennaio è venuto a mancare Lelio Lagorio, già membro della Camera dei Deputati nella ottava, nona, decima legislatura. Nato a Trieste il 9 novembre 1925, laureato in giurisprudenza, avvocato e giurista, esponente di primissimo piano del Partito Socialista Italiano, ha iniziato la sua lunga e prestigiosa carriera politica ricoprendo l'incarico di Sindaco di Firenze, città a cui poi è sempre stato rimasto profondamente legato ed è stato il primo Presidente della Regione Toscana. Ha fatto successivamente più volte parte del Governo in qualità di Ministro della Difesa e di Ministro del Turismo e Spettacolo. Iscritto al gruppo del PSI ne è divenuto Presidente nel corso della nona legislatura. In qualità di deputato è stato membro di numerose commissioni parlamentari ed è stato eletto nella decima legislatura Presidente della Commissione Difesa. Politico esperto e appassionato, è stato uno dei protagonisti della stagione della vita politica e istituzionale dei Governi di coalizione, succedutisi nel corso degli anni Ottanta. La Presidenza, anche a nome dell'Assemblea, desidera manifestare ai familiari che sono presenti nelle tribune le espressioni della più sentita partecipazione al loro dolore. Invito pertanto l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio. Grazie. 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 Grazie.